Ciao Juventino, vengo a portarti le notizie dal calciomercato della Juventus prima di continuare, e lasciate quel super mi piace e iscrivetevi. Per rafforzare il nostro lavoro. Charles de Quetelaere, acquisito dal Milan per circa 35 milioni di euro, non ha soddisfatto le aspettative nella sua prima stagione al club, non riuscendo a segnare alcun gol con la maglia del Milan. Negli ultimi giorni di mercato, il Milan ha scelto di prestare il centrocampista all'Atalanta. Con la maglia dell'Atalanta, De Quetelaere sembra aver ritrovato il suo calcio, registrando due gol e due assist in soli sette incontri. Nonostante ciò, ci sono informazioni che il Milan desidera vendere il Belga nella prossima finestra di trasferimento, e la Juventus sarebbe interessata al centrocampista di 22 anni. Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera di cercare di portare De Quetelaere a gennaio. Il Milan sta chiedendo 29 milioni per il giocatore. Tifoso bianconero, ritieni sia una buona idea cercare un accordo per Charles De Quetelaere?